sul divano con la musica si mette comoda una produzione rbe tv con claudio petronella ogni settimana una chiacchierata di musica ed intorni ciao a tutte e a tutti siamo sul divano con il duo chapeau il numero uno pensavo son primo e lo sono da solo una solitudine estrema scoperta soltanto all'arrivo come il numero due che tentava in vano ad essere positivo se sono arrivato fin qua sarà vero ben più di un motivo è il numero tre che ruscava ma comunque era sempre sul podio rifugiandosi in banalità del tipo l'amore che vince sull'odio ottimista era il numero quattro ci sono arrivato vicino la prossima volta lo sai sicuro arriverò primo e il numero cinque da dietro gemeva non è colpa mia c'era il numero sei che spingeva mentre il sette gridava via da qui che una gara comincia via da qui che la gara vostra è finita il numero otto ha lasciato la cieca fortuna so guarda valtrove era tra il pubblico con un megafono gridava e viva al numero nove e l'ultimo il numero dieci ma al traguardo non è il suo traguardo è arrivato con passo tranquillo sorriso dicendo scusate il ritardo e l'ultimo il numero di ci sono e l'ultimo il numero di ci sono ciao ragazzi ben arrivati ciao Claudio ciao Sara ciao Sergio ben arrivati nei nostri studi sul divano con il duo chapeau anche se io direi trio perché c'è un personaggio un interprete che fa parte del vostro progetto musicale un progetto di vita un progetto musicale che è il vostro camper mi hai detto Sergio fuori onda è il camper è meglio che stia in garage perché è più adatto per i viaggi lunghi è vero? si è fatto per le mete distanti oggi sarebbe stato un rischio arrivare troppo un rischio arrivare in ritardo perché comunque è un viaggiare lento ecco il viaggiare lento ad agio questo è il titolo del vostro album LP long plane come possiamo definirlo? EP come si dice? un gruppo di canzoni che si riuniscono in quella stanzetta che per qualcuno è su Spotify per qualcuno è su un CD benissimo ecco il CD anche questo il supporto fisico concreto è una cosa che a me piace molto a tenere in mano le canzoni perché abbiamo parlato di camper? perché voi portate la vostra musica come due chapeau in strada voi siete come progetto nasce sulla strada sì era un'ottima un'ottima scusa per unire le due cose che ci piacciono che era che sono viaggiare e suonare e quando una ti dà la possibilità di fare l'altra jackpot e via abbiamo scoperto questa cosa abbiamo scoperto che entrambi gasava tantissimo perché no? e da lì non ci siamo ancora fermati e tu dicevi un componente del trio in realtà è il primo senza senza di lui non si va da nessuna parte che è Noè questo Noè ecco il nome anche un nome ci sta Noè sì in realtà doveva essere di una banalità estrema il nome perché la la marca che possiamo dire tanto non esiste non esiste più è un vecchietto del 91 era l'arca arca freccia e qui ci sta insomma quindi abbiamo detto Noè non teme diluvi e tempeste e acqua abbiamo scoperto che l'unico problema che ha sono le infiltrazioni però per il resto è molto rocco ha azzeccato questo nome è molto rocco Sara quando proponete le vostre canzoni per strada nei vari luoghi che avete visitato insieme a Noè portate le vostre canzoni o pensate che sia più opportuno le cover portare delle cover ma in realtà facciamo un mix di tutto sì abbiamo iniziato facendo principalmente musica tradizionale folk erano i pezzi che avevamo in comune poi pian pianino abbiamo iniziato a fare cover anche di Fabrizio De Andrè abbiamo aggiunto degli altri pezzi tradizionali e poi sono usciti anche le nostre idee le vostre idee Sergio parliamo di musica di strada come c'è il teatro di strada come c'è l'artista di strada anche il musicista può essere un artista di strada il busker se fossimo nei paesi anglosassoni col mio inglese maccheronico il busker ci sta è una cultura è proprio un modo per esprimere la propria musica la propria arte ecco in Piemonte ne siamo fortunati si può fare non dappertutto però è così ogni città in Italia ma come in realtà anche in altri paesi anche all'estero ogni città ogni comune ha i suoi regolamenti certo che più si va verso le isole d'oltremanica più cambia proprio anche l'approccio il pubblico anche dei passanti delle persone allora sì ogni paese ha un po' la sua ogni città la sua anima e quindi anche chi arriva da fuori anche il turista si fa contagiare quindi sia in bene che in male come regolamenti cambia l'approccio anche proprio dalle istituzioni nel senso che quest'estate abbiamo fatto siamo partiti col camper dal Cunese da Boves dove abitiamo l'obiettivo era arrivare a Dublino arrivare in Irlanda e ci abbiamo messo un mese arrivare in Irlanda e poi un mese a girarla se la Germania l'Olanda la Francia il Belgio c'erano regolamenti molto ferrei cortesi ma ferrei sull'uso dell'amplificazione sugli orari sui permessi proprio da ritirare appena passati oltre manica appena scesi approdati con la nave è cambiato totalmente il linguaggio anche solo utilizzato non c'erano più i regolamenti c'erano buone pratiche e quindi le buone pratiche non erano solo per i musicisti questa cosa molto interessante ma era anche per gli abitanti e per i commercianti quindi per chi lavorava per chi viveva e per chi suonava in quella via in quella strada e quindi c'erano queste buone pratiche fantastiche che davano i consigli un comportamento sì è interessante davano anche i consigli ai musicisti sulla scaletta e questa è il sito del comune di Birmingham che ti dice mi raccomando cerca di variare un po' non mi fare ogni quarto d'ora gli stessi quindi è un impresario il comune si sentiva proprio che c'era sì tutto va bene che c'era una cultura come dicevi tu c'era una cultura un approccio diverso alla cosa anche in Italia ci sono un sacco di isole felici comunque rispetto a anche solo già 15 anni fa quando ho iniziato da ragazzino stavo pensando 20 passa il tempo sono in strada mannaggia è cambiato è cambiato tanto sono arrivati regolamenti che non sono sempre un male nel senso che quando un regolamento è un è un patto di convivenza è viva è viva le regole quando non ci sono regolamenti ma di vieti lì cambia un po' un po' più difficile un po' più difficile certe volte anche ti porta in situazioni divertenti ma questo è un altro discorso ok Sara a un certo punto la vostra idea di musica di strada musica come Basker l'avete portata in un disco ad agio e qui è nato ad agio quando è uscito questo vostro lavoro questo libro di fotografie no? me lo immagino un po' così sì sì un diario un diario esatto perché mettere su su disco e anche perché no anche sui store digitali queste vostre canzoni ma perché suonando in strada molto spesso ci chiedevano la nostra musica e sui nostri dischi ne abbiamo incisi due o tre facendo cover anche con altri amici musicisti che si sono giunti eccetera e e poi appunto dopo questa pausa della pandemia eccetera sono uscite alcune alcune idee ed è nato anche molto diverse tra loro e abbiamo anche aggiunto degli strumenti che normalmente in strada non possiamo portarci come il pianoforte e quindi abbiamo deciso di Sergio se sei d'accordo quindi avete , Sergio avete praticamente dato una nuova faccia una nuova visione del vostro progetto duo chapeau è un po' snaturato secondo te o è un'altra cosa rispetto a quello che proponete solitamente per strada scusa se insisto sulla strada mi piace molto questo palco la parte interessante chiaramente è quella la differenza tra suonare in un posto dove la gente è invitata a venirti a sentire e quindi che sia poca o molta e comunque gente lì perché di nuovo c'è stato un appuntamento invece in strada questo appuntamento non c'è una persona sta andando a lavorare tornando dal lavoro sta andando a casa sta andando a comprare del latte e ti incontra però allo stesso modo tu non sai chi incontrerai e tu ti metti lì c'è un orario un prime time del basket Sara dai svelaci un segreto la giornata tipo c'è un momento in cui beh immagino allora sì la mattina in genere si lavora molto bene dai davvero avete tornato pomeriggio ma dipende anche dai posti dalle location e ovviamente in questo viaggio che abbiamo fatto fino in Irlanda abbiamo anche avuto difficoltà perché gli orari ovviamente della vita quotidiana cambiavano tantissimo e in Inghilterra per esempio alle 4 del pomeriggio tutti a casa tutto chiuso e ci spente anche d'estate eh no d'estate in realtà non l'abbiamo vissuta che periodo era quando siete andati era settembre inoltrato fine agosto settembre poi io fino a ottobre ad agio Sergio questo è il titolo potrebbe essere anche ad agio infatti c'è una canzone perché ad agio c'era il dubbio perché in realtà il significato è proprio lì in mezzo tra con calma ma stando bene abbiamo fatto un disco che avevamo registrato durante la pandemia in cui non si poteva andare in giro e allora abbiamo deciso di registrarlo e chiedere a ognuno dei nostri amici colleghi musicisti di contribuire in un brano eravamo chiamato festina lente che è un affrettarsi con lentezza poi si può leggere in tanti modi il modo in cui lo vedevamo noi era appunto ci vedevamo col camper quindi a una velocità di crociera molto molto bassa e però con con l'urgenza l'esigenza di partire andare quindi affrettati ma vivitela con calma ma goditela esatto c'è la volontà verso andare le cose non è una pigrizia poi noi arriviamo dal cunese quindi c'è questo cosa del bugianen no vai con calma ma vai parti subito e goditi il viaggio la prima canzone che abbiamo sentito abbiamo ascoltato del duo chapeau era numeri il brano che apre ad agio so che oltre alle canzoni in cui possiamo ascoltare anche la tua voce Sergio ci sono anche dei brani strumentali c'è uno in particolare che richiama quell'Irlanda di qui sopra il gaelico questo mondo vero Sara? si si è proprio Gauss Jig che è una vuole riprendere una danza al ritmo di una danza tradizionale irlandese Jig J-I-G giusto? esattamente che poi è la Jigo è la Jiga è la Jiga se vogliamo andare indietro a back che bellezza questa cosa torna sempre dai duo chapeau per sul divano con Grazie a tutti. 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 Vi consiglio l'account Instagram Duo Chapeau. Ci sono diversi video, diverse testimonianze dei vostri viaggi musicali. Chiudo una parentesi che non ho aperto, mi sono dimenticato di aprire, ma torniamo alla musica, torniamo al folk, torniamo all'Irlanda, insomma, a questa vostra recente esperienza, diciamo, in cui avete proposto la vostra musica in palchi sempre differenti, evidentemente, senza conoscerli prima o sbaglio? Assolutamente no. No, siamo andati in posti. Esatto, esatto. Perché attirare l'attenzione dei passanti, a me richiamo anche un po' quel mondo in cui siete entrati con Adagio, Spotify, in cui è un attimo fare skip da una canzone all'altra, da un artista, da un progetto all'altro. Non ti chiedo il segreto per poter attirare l'attenzione, per poter mantenere su di voi l'attenzione per strada in un luogo non luogo. Questo penso che sia una delle vostre sfide più importanti. Sì, ma tanto dipende da come sei tu, anche come stato d'animo, e quindi spesso ci capitava di essere presi male, cioè non spesso... Sara Cesano, come è andata la tua estate suonando? Spesso ci capitava di essere presi male. E qui, scusa, no, perché ero fissata sul discorso, cioè la gente schippa davanti a te e effettivamente se tu sei preso male la gente non si ferma. Se ne accorge quindi, secondo te, se ne accorge. Anche se sei lì che suoni la curente, però è l'anima, insomma... Sì, poi è molto reciproca la cosa, ovviamente... E ma come fai a fare uno scambio con persone che passano, Sergio? Eh, stavo pensando a questo... al di là dello spesso, però effettivamente... No, è che diventa una tua quotidianità, non che tu ci abbia chiesto una formula sul come si fa, però... Perché non è che ce l'abbiamo, però la cosa interessante è che, come capita a tutti nella quotidianità, magari c'è la giornata in cui hai fatto... hai fatto 500 chilometri, hai avuto un problema col camper, non trovavi da dormire... Tutte le difficoltà che ci possono essere in viaggio e poi dici, ah, e mi metto a suonare e... Non è facile staccare tutto e riprendere, vero? Però sono i due i casi, o tu riesci a... cioè riesci, per sbaglio quella stanchezza la comunichi subito e quindi le cose non funzionano e quindi... Oppure la gente ha un'energia tale che te la passa subito e la stanchezza va via... Questo per dire che non credo ci siano formule per... Eh... ma... ma c'è un'energia... c'è un... Si tratta sempre di legare con quelle persone che hai davanti, il modo che possiamo farlo noi è suonando... E poi siamo siamo in strada, quindi la gente può passare e andare via, o può fermarsi... Quando si passa e va via magari ti scambia anche solo un sorriso che dice tutto, dice vorrei fermarmi ma non posso... E invece quando si ferma magari si scambiano due parole e poi abbiamo tantissimi amici che sono negli anni sono diventati una seconda famiglia incontrati così... Eh... quindi come... come si tiene l'attenzione... Il nostro modo è... e non chiedendola nel senso... Noi diamo questo, chi lo prende, ne facciamo qualcosa insieme e a volte succedono cose molto belle... Tantissimo... e succedono e accadono legami Sara... Si tantissimo... Tramite Instagram che è un gran mezzo, non è un fine ricordiamolo, è un mezzo e per voi immagino sia così, lo posso dedurre dai post e dalle storie che condividete... Avete una grande fortuna, insomma chi fa un lavoro come questo, passione e lavoro insieme, quello di essere in strada, su un palco, ha la possibilità per due ore di staccare dal mondo... Cioè proprio di mettere da parte evidentemente tutti i nostri problemi, le robe, bollette... Fermare il tempo... Lo fermi e ti concedi a questa cosa, è una grande fortuna secondo me, a meno spero che per voi sia anche questo un gran piacere... Sì, noi ci riteniamo fortunati ogni volta che succede, che riusciamo a suonare a fine giornata, si sta bene... Infatti capita spessissimo che magari siamo in giro, siamo in viaggio e poi a fine serata prima di addormentarsi... Ah, ma qualcuno ha fatto una foto? No, nessuno di due, ma chi se ne frega... Magari ve le indiano le foto, non so, qualcuno vi tagga... No, sì, riceviamo video, giga di... Sì, c'è il discorso di sempre la tensione, siamo nell'era anche del racconto ed è bello raccontarsi quando è reciproco... C'è un po' il rischio quando la percezione che ho io, quando sei davanti al telefono, dici... Ah, devo raccontare, ma chi? Dove lo scambio? Che poi sicuramente c'è, perché come dicevi tu è un mezzo... Però ogni tanto quella sensazione di parlare a un muro c'è... O di mettersi in una vetrina davanti a una strada vuota e quindi comunque vince sempre di più la voglia di vivere le cose piuttosto di avere qualcosa da raccontare... Tant'è che poi alla fine le cose che pubblichiamo, che riusciamo a raccontare, che è anche sbagliato per certi versi, però sono sicure le cose che viviamo sono molte di più di quelle che poi riusciamo a dire... Però preferisco così che il contrario... Ok, anche in questo caso slow, no? Molto adagio, adagio anche sui social... Un palco sempre diverso, una quarta parete, prendendo una metafora territoriale che cade evidentemente sulla strada... Una quarta parete che cade anche attraverso Spotify, attraverso i dischi, attraverso YouTube, insomma attraverso tutti questi mezzi che sono appunto un mezzo per poter diffondere la vostra musica... Do chapeau, la terza canzone di questa nostra puntata, di questa nostra chiacchierata sul divano, che cosa ci proponete? La camicia? Ah, la camicia! No, va bene Sergio, può andare bene? Sì, sì, mi guarda male No, no, mi aspettavo la camicia che... Che ricordi hai della camicia, Sergio? Ti ricordi quando è nata la camicia? Assolutamente sì, perché era un periodo che non so se qualcuno si ricorda, ma non molto tempo fa eravamo abbastanza fermi E quindi per noi che era un po' fondativa la cosa di essere in giro è stato un bel momento di ragionamento sulle cose Che è finito con una filastrocca molto semplice che è fermi, noi non siamo fermi, ma nemmeno da fermi E quindi quando le gambe non possono andare è la testa che deve girare, quindi... Mi hai fatto venire in mente stasera chi viene, o com'era già, stasera? Stasera non viene nessuno Stasera non viene nessuno, un progetto che avete portato avanti voi con altri amici, altre amiche sul pacco del Toselli se ricordo bene Ci sono ancora i video su YouTube, mi hai aperto questa finestra su un periodo in cui era un tempo sospeso evidentemente Ma non era sospesa la creatività e voi me lo state confermando, non è così banale anche questo ragazzi Perché c'erano due strade, o continuiamo a essere, essere quindi musicisti, artisti della musica Oppure ci fermiamo e no, e non va bene Invece avete continuato, avete proposto delle cose davvero molto interessanti Chissà quante cose sono nate, magari anche ad agio Sì, ad agio sicuramente è figlio di quel tempo Di quel periodo anche, certo Comunque non si era mai solo da un lato, nel senso che si rimbalzava sempre tra il Allora facciamo qualcosa e allora chiudiamoci a Riccio E in questo ping pong che ci sta, siamo umani, nascono le cose Dai vi lascio la camicia, sul divano con il 2 chapeau E ragazzi devo accordarmi, scusate Vai vai, mentre ti accordi allora Sergio Io parlo con Sara, se me lo concedi, insomma Sara Certo Abbiamo parlato di questi momenti di passaggio del pubblico Tu che sei abituata, insomma, suoni nelle valli occitane non solo Insegni la magia del violino Hai un pubblico di fronte Quel pubblico della strada viene, passa, se va bene, se hai preso bene come dicevi tu Si ferma, se no se ne va E ciao ciao, addio per sempre Un'altra città, altre persone che passano C'è della poesia anche in questa Io riesco a notarla Come hai vissuto la prima volta questo esperimento? Tu ricordi come 2 chapeau, intendo, con Sergio Con tuo compagno No, ma la prima volta era stato In realtà ero talmente travolta dall'evento Che in realtà adesso non focalizzo bene Ma in realtà col tempo impari anche a interagire senza parole con le persone E quindi basta anche uno sguardo per salutarti Oppure condividere un pezzettino dell'altra persona Perché il pubblico comunque ti dà la carica O ti passa anche dei suoi stati d'animo proprio Quindi io poi ci metto niente a andare in lacrime Anche davanti a un film Emozioni, ma benvengono Sara Ma davvero succedeva che alcune persone Si fermavano e si ascoltavano fino alla fine del brano E si creava un legame Tanto che finivo di suonare e andavo ad abbracciare questa persona E' successo un paio di volte Bello, che bellezza Sara, grazie Grazie per averlo condiviso Ti vedo con gli occhi lucidi anch'io Sergio, siamo pronti per la camicia? Noi abbiamo parlato amabilmente, abbiamo tirato fuori cose Direi di un certo spessore, sono molto contento di poterle condividere con voi Do chapeau sul divano conne Oggi mi metto alla camicia bella ed esco Non c'è bisogno di far presto E nessun posto di preciso dove andare oggi Mi sdraio, non me ne voglia il calzolaio Se a stare scalzi non c'è guaio E anche le calze si dovranno fare da parte E oggi son certo che me ne starò un po' all'aperto E se mi vuoi trovare vienimi a cercare al mare Oggi mi invento un mondo e tu ci soffi dentro Lo so che a volte fa spavento Star senza un posto di preciso dove andare Oggi mi sdraio L'avessi detto al calzolaio Di piedi scalzi ne è un bel paio E le tue calze sembreranno bucate ad arte Oggi son certo che me ne starò un po' all'aperto E se mi vuoi trovare vienimi a cercare al mare Fermi noi non siamo fermi nemmeno da fermi Se le gambe non possono andare È la testa che deve girare Fermi noi non siamo fermi nemmeno da fermi Se le gambe non possono andare È la testa che deve girare Oggi son certo che me ne starò un po' all'aperto E se mi vuoi trovare vienimi a cercare al mare Fermi noi non siamo fermi nemmeno da fermi Se le gambe non possono andare È la testa che deve girare Fermi noi non siamo fermi nemmeno da fermi Se le gambe non possono andare È la testa che deve girare Oggi mi metto la camicia bella ed esco Ma senza fretta di far presto E nessun posto di preciso dove andare Fermi noi non siamo fermi nemmeno da fermi E se le gambe non possono andare È la testa che deve girare Fermi noi non siamo fermi nemmeno da fermi Se le gambe non possono andare È la testa che deve girare Ben tornati e bentornate a Sul Divano con Duo Chapeau Ogni città qualche guaio ha Ma qua e là c'è serenità e non a Nottingham Come è triste il subì questa tirannia E non poter volare via dopo tanto pianto Dopo aver sofferto tanto Forse un po' di gioia tornerà Ma non a Nottingham Ma non a Nottingham Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non a nottingham Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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